Anche Luca Lombardi della Centro Giovani Cacciatori è uno dei giovani interessanti della società bianconera. Ha preso parte con la Nazionale Under 17 ai recenti campionati europei classificati di quarti. Ha esordito l'anno scorso segnando sette reti in una partita contro il Giovinazzi e spera di avere ovviamente altre chance anche in questo torneo. È un'emozione assurda, indescrivibile credo. È un sogno che si realizza fin da piccolo, chiunque lo sogna di crescere nel proprio club e poi arrivare fino in Serie A. Anche Nicolò Puccinelli è un altro elemento su cui la società punta per il futuro. Il Centro Giovani Cacciatori ha giocato in amichevole con la Nazionale Under 20 vincendo 4 a 2 con le reti di Gepi Selva, Monti, Gialventura e Gavioli e domenica alle 20.30 torna in pista alla Pala Barsacchi con il Follonico. Va bene, dai, sono contento di questa esperienza e speriamo di fare bene e niente. Siamo pronti per questa nuova annata? Siamo pronti, il gruppo sta bene, siamo un gruppo affiatato.